Che ci fai qua? Allora, sono venuto per un periodo di riposo. Hai perso il lavoro pure tu e sei tornato in paese. Abili nel cercare nuove soluzioni. Questo ormai è un ospizio abusivo. Da vecchie risorse. Una pensione per sempre! Con Ficarra e Picone. Andiamo a quel paese. Giovedì in prima serata, Canale 5.